Il nome Drelief, che in italiano significa foglia secca, racchiude in sé il significato delle liriche e atmosfere che vogliamo richiamare con la nostra musica. Soprattutto questo posto dove ci troviamo adesso, che si chiama Martinetto, che è un po' un punto di riferimento o un punto anche di partenza per diversi progetti che si sono susseguiti negli anni qui. Il progetto Drelief Drelief ruota praticamente attorno alle mie composizioni che ho raccolto in questi ultimi dieci anni, fra l'Inghilterra e il Palermo, anzi Carazzi soprattutto, che è il posto dove ci troviamo adesso, da dove è nato un po' il tutto. Quest'album sancisce un forte momento di transizione per i Drelief, poiché Salvatore Aiello dalla parte esecutiva è passato alla parte della produzione del disco registrato questo inverno. Cosicché sono entrato io per accompagnare Little Gas nella promozione di questo nuovo disco. Noi pensiamo che il modo di fruire la musica al giorno d'oggi sia diventato anche un po' obsoleto. Si ascolta musica sempre solo da piattaforme come YouTube o comunque sempre tramite internet Spotify, Bandcamp. Quindi il supporto fisico e la sua importanza è venuta un poco a scemare col tempo. Vogliamo appoggiarci a MusicRacer e cogliere questa opportunità per stampare le copie fisiche del nostro album. L'album che presentiamo per MusicRacer è composto da nove tracce. In quest'album ci avvaliamo di moltissime collaborazioni. Aldo è ammirata al violoncello, a Giorgio Trombino, al sitter, a Oud e Fabrizio con il suo piano a coda. E tutte quelle persone che ci hanno aiutato in qualche modo in tutto il nostro percorso. Direst e'album che ci trovano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.